Io sono sempre qui da questa bellissima domenica e sono con Marina Venieri, sempre appunto dell'associazione Non Una Di Meno. Marina, ciao. Ciao a tutti, sono un po' emozionata, scusate, comunque questo è il nostro progetto, l'abbiamo dedicato ai bambini perché sappiamo che i bambini vanno oltre i confini, non li vedono, non li usano e non ne fanno un problema. Per cui il nostro progetto è un progetto dedicato ai bambini, incominciamo con le scuole elementari e con le medie e i loro genitori, attraverso lo sport, calcio, palacanestro e palestra, uniti insieme bambini e bambine e genitori. Comporranno due squadre che verranno sorteggiate e poi faranno anche un torneo e presenteremo poi in piazza i risultati di questo progetto. È un progetto per superare le barriere, per accettare le differenze, per accettare le difficoltà, per accettare anche di sbagliare, parole santissime, e non morirci sopra, stare insieme e ridere, scherzare ed aiutarsi a vicenda, a superare qualsiasi problema, qualsiasi barriera. Marina, dove trovano questo bellissimo progetto? Avete un sito o una pagina Facebook? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook e non una di meno di consigli c'è e lo metteremo, lo posteremo sul progetto insieme anche ad un comunicato che abbiamo fatto proprio per la giornata. Perfetto, per cui dovete andare su questa pagina Facebook dove troverete anche tutto il regolamento. Quando sarà partito troveranno le informazioni sulla nostra pagina per come partecipare. Perfetto, quindi tenete d'occhio la pagina di queste magiche ragazze, guardate che meravigliose idee, si parte sempre dai bambini, è vero, i bambini non hanno confini, noi dovremmo essere tutti un po' piterpani. Dobbiamo imparare dai bambini, hanno tanto da insegnare, per come stare insieme. Insieme, senza barriere, senza malizie, senza cattiverie. Senza differenze. Grazie. Grazie a tutti.